Il noto rapper Fedez è stato ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo alla Zanzara, dove ha espresso la sua preferenza per Roberto Vannacci rispetto a Ellie Schlein dal punto di vista comunicativo. Durante la trasmissione, Cruciani ha commentato che Fedez sembrava più vannacciano che schleiniano, scatenando la risposta dell'artista, che ha affermato che comunicativamente vannacci è nettamente superiore a Schlein. Fedez ha confermato la sua posizione, nonostante il conduttore abbia evidenziato la singolarità di tale scelta, considerando le collaborazioni passate del rapper con Andrea Zan. Tuttavia, Fedez ha chiarito di non schierarsi politicamente, ma di esprimere un giudizio basato esclusivamente sulla comunicazione. Durante la trasmissione, Fedez ha anche rivelato di non aver più votato dopo la pandemia di Covid, poiché non si sente rappresentato da nessuno. Dopo la partecipazione di Fedez al programma, Roberto Vannacci ha condiviso il video dell'intervento su Facebook, commentando, ironicamente, che piace anche a Fedez, definendo la situazione un mondo al contrario. La frase di Vannacci fa riferimento al titolo del libro scritto dal generale Il mondo al contrario. La discussione tra Fedez e Vannacci ha suscitato interesse e polemiche sulle preferenze comunicative dell'artista e sul suo distante.